Io mi chiamo Enrica Bonaretti, sono una dottoressa, sono laureata in farmacia, sono specializzata in farmacia ospedaliera e sono figlia del dottor Bonaretti, presidente vicario della Corte d'Appello di Milano. Sono qui come reduce dell'esperienza Shalom. A Shalom mi ho trascorso i 19 mesi peggiori della mia vita e tuttora, nonostante siano passati 18 anni, ho un ricordo traumatizzante di quel periodo. Io sono entrata in comunità il 7 ottobre del 2005, ma io avevo 20 anni, non avevo un grosso problema di dipendenza, seguì i miei genitori che mi dissero che mi avrebbero portato ad un colloquio di lavoro, non avevo idea che stavo andando in una comunità. Entrai, ascoltai la testimonianza di un ragazzo, al termine mi congratulai, lo ringraziai, però insomma non capivo che cosa ci facessi lì. Cercarono di convincermi a rimanere. Visto che non cedevo, arrivò la suora. La suora arrivò e mi scioccò. Ricordo come fosse ieri, arrivò gridando, paonazza in viso, frasi assurde, offensive. Mi disse che ero una tossica, che ero una pazza, che ero una stronza, che non avevo rispetto di niente di nessuno. Io la guardai negli occhi in quel momento, capì che era completamente fuori di testa, per cui la lasciai finire e poi le dissi benissimo, adesso però o mi lascia andare o chiamo i carabinieri. Mi saltarono addosso, mi tennero ferma e lei mi picchiò, mi colpì ripetutamente sul viso. I cancelli si chiusero, i miei genitori se ne erano già andati e io rimasi lì. Ero circondata da sconosciuti. Io dicevo che non avevano il diritto di trattenermi e loro mi risposero che avrebbero avviato una procedura di interdizione nei miei confronti. Incontrai lo psichiatra volontario della comunità, cercava di provocarmi, io rimasi calma, dissi che ero trattenuta contro la mia volontà, che volevo tornare a casa. Dissi che avevo sette cani, che dovevo assolutamente prendermene cura. Mi rispose che i miei cani erano meglio di me. E gli dissi sicuramente, ma anche molto meglio di lei. Si alzò, prese un'enciclopedia, me la tirò sulla nuca, così forte che caddi a terra dalla sedia. Quando fui a terra mi colpì e poi mi fece un'iniezione di Valium. Mi svegliai il giorno dopo. Io non volevo stare un minuto di più in quel posto. Più stavo, più mi rendevo conto che era un posto psicotico. I miei primi cinque mesi di shalom sono stati un incubo terribile. I primi due mesi sono stata messa in isolamento. Sono stata costretta a passare notti insonni. Sono arrivata a passarne quattro. Era una forma di tortura. Ma ancora più umiliante e degradante è stato quando mi è stato perfino proibito di andare in bagno. Mi è stato detto se tu non ci dici che vuoi stare qui, tu ti pisci addosso. Visto che continuavo a dire che non volevo stare lì, passai tre mesi alle cariole. Io non avevo nessuna intenzione di essere un membro shalom. queste ragazze che si vedono in punizione non sono ragazze che hanno fatto l'anno combinata davvero grossa come viene detto da credo una suora. Sono ragazze che dicono semplicemente io non voglio stare qui. Quando la suora incontra questo muro lei utilizzerà tutti i metodi coercitivi che può per portare a sfinimento l'ospite. A un certo punto l'ospite è esausto, stremato e nei casi peggiori temendo per la sua vita accetterà. No, io ero disperata. Ero disperata. Ho subito degli abusi psichiatrici orribili. Ero entrata senza nessun farmaco e dopo pochi giorni avevo una lista spaventosa di farmaci. Prendevo 14 dosi al giorno. Da farmacista ospedaliera posso dire che quella terapia era appropriata per uno schizofrenico grave pericoloso per se stesso e per gli altri. Cosa che io non ero. Io mi addormentavo in piedi. Non ero in grado di articolare le parole. Non ero in grado di portare a termine un pensiero. È proprio una tortura. I metodi utilizzati soltanto al fine di rendermi incapace di reagire in alcun modo. Ho la pelle d'oca quando parlo di queste cose. Io per tutto il primo anno di comunità ho soltanto desiderato morire. Una volta Rosalina obbligò una ragazza incinta al nono mese che non voleva continuare a mangiare uova. La ragazza vomitò. Lei le fece rimangiare il suo vomito. Un'altra punizione che ricordo. Una ragazza non voleva lavarsi e lei davanti a tutti la portò nella fontana con lo spazzettone del water la passò. Lei impedì ad un ragazzo di bere per due giorni a luglio perché si era dimenticato di dare l'acqua ai fiori. I ragazzi anoressiche dopo un po' di tempo a Shalom sono normo peso semplicemente perché sono obbligate a mangiare. Se non lo fanno sono costrette con la forza e se cercano di prendere un panino di meno loro vengono costretti a mangiarne 15 compreso il primo, il secondo e la frutta. Per questo il genitore dopo vedeva la figlia normo peso e diceva le stanno salvando la vita. Rosalina ha la bacchetta magica, non c'era riuscito nessuno. Nessuno aveva usato i metodi di Rosalina che sono illegali. Il giorno della fuga è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Passai la notte a guardare il cielo, lo ricordo ancora come fosse ieri. Ci mandò in la villa adatta per fare le pulizie. Lì non c'erano le recinzioni alte, tre metri e mezzo non c'era il filo spinato. Scappammo dalle docce la notte, io e questa mia cara amica. Corremmo, 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 ci nascondemmo in un distributore di benzina, si fermò a una macchina, arrivamo a Milano. Sapevo che la suora si sarebbe mossa per cercarci. Quanto fosse folle questa ricerca lo scoprì soltanto dopo e la suora aveva detto ai miei genitori che noi eravamo state rapite dai rumeni. Questa pista dei rumeni apparve chiaro che era una bufala. Mio padre fu sguinzagliato con un gruppo di vecchi. Mio fratello doveva dire gli indirizzi dei nostri amici perché così si poteva cercare casa per casa se eravamo dentro. La suora pretendeva che mio fratello si appostasse in stazione centrale per giorni per riacciuffarci. Mio padre dopo qualche giorno a stretto contatto con la suora capì che si trattava di una donna estremamente manipolatrice e non affidabile. Contattai immediatamente un assistente sociale, un avvocato per tutelarmi che non potesse di nuovo accadere, che qualcuno ci prendesse, ci portasse, ci segregasse contro la nostra volontà e ci facesse sparire per anni. Quando finalmente mi sentivo abbastanza protetta andai dai carabinieri ed ero intenzionatissima a fare una denuncia contro la suora e l'avrei denunciata per sequestro, per maltrattamenti, per torture, per abuso psichiatrico, abuso di mezzi di correzione, abuso di potere e violenza privata. Purtroppo i carabinieri quando andammo si rifiutarono di scrivere la denuncia. Ci dissero voi siete due ragazze, scappate da una comunità per cui di conseguenza considerate problematiche, che vogliono denunciare una suora che passa per una santa. Lei vi distruggerà. Per me era una coltellata l'ennesima. Shalom è stata l'esperienza più terribile della mia vita. È stata una tortura protratta nel tempo senza speranza. Uscita da lì ho iniziato a soffrire di un disturbo da stress post-traumatico. Io non riuscivo più a fermarmi a pensare perché se mi fossi fermata a pensare io sarei stata assalita da una serie di flashback, di ricordi traumatizzanti, di sensi di colpa. Io per anni ho sofferto tutti i giorni perché io ero libera mentre quelle ragazze stavano male. Io mi sono laureata con l'Ode in meno del tempo prestabilito perché studiavo sempre. Il mio studiare sempre era un tenere la mia mente occupata. Io non potevo permettermi di pensare perché sarei andata in depressione. Mi avrebbero ucciso quei ricordi. Non è che la situazione Shalom adesso è sfuggita di mano alla sua ora. Le stesse metodiche, le stesse torture peggiori io le ho vissute vent'anni fa. Shalom è semplicemente un sistema basato sulla menzogna, basato sulla manipolazione e basato sulla violenza. Ricorda a tratti un manicomio e a tratti un campo di concentramento. Shalom è una vergogna per il nostro paese. È un insulto all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario se non per disposizione di legge e comunque mai violando i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Io per anni non ho parlato perché nessuno mi avrebbe creduto. Per cui quando ho visto che finalmente c'erano dei video, c'era la possibilità di riaprire un'inchiesta, metterci la faccia a dire che io sono una persona che non mi ritengo altamente credibile, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, sono una dottoressa, posso dire quello che è stato e non ho nessun motivo di venire qui dopo vent'anni a dire bugie sul conto della sua ora. Io sono qui per amore della verità. Perché è veramente disgustoso che vengano trattati in questo modo questi ragazzi, accusati di essere dei bugiardi, minacciati, i loro problemi esposti sul sito Facebook della comunità. È una cosa veramente vigliaca e cattiva. D'altronde non c'è mai stata nessuna volontà di recupero di queste persone. È l'ennesima umiliazione che queste persone sono costrette a subire. Io sono inattaccabile e se la sua ora prova a dire qualcosa su di me io la denuncerò per diffamazione.